Il premio giornalistico Orchidea d'Argento giunge all'ottava edizione, quest'anno va nelle mani di una giornalista a tutto tondo, a 360 gradi, che è Paola Saluzzi. Ha iniziato con lo sport, oggi si parla appunto di giornalismo sportivo nel corso di formazione per giornalisti. Com'è cambiata, se è cambiata Paola Saluzzi dagli esordi ad oggi Sky TG24 e TV2000? Allora, grazie innanzitutto per l'introduzione e per questa domanda che è bellissima, il concetto è quanto tempo abbiamo, perché cambiata sì senz'altro, tanto, però come fanno gli alberi? No, devi sempre andare a cercare tutto quello che hai imparato nelle tue radici, quindi sicuramente con quella prima importantissima esperienza, quella tecnicamente parlando giornalistica, che è stata la redazione sportiva di Telemonte Carlo. Quindi parliamo, era il 1990, c'erano i mondiali di calcio in Italia. È un lavoro bello questo, io mi ritengo una persona molto fortunata, molto onorata perché ricevo un premio. Tu mi dici a tutto tondo, io posso solo ringraziare per un'affermazione del genere. I premi servono, sì, innegabilmente a chiudere un cerchio di quello che è stato fatto finora e poi aprono. devono aprire nuovi barchi per quello che sarà il lavoro a seguire. È una bella responsabilità perché avete un palmaresse importante, perché ricevere un premio è sempre un regalo nel regalo. Il mio modo di lavorare su una cosa non è cambiato, entusiasmo è rimasto quello, curiosità è rimasta quella, ma forse, spero, più esperienza e quindi di conseguenza sapere meglio come fare o come comportarsi in determinate situazioni. Ma di base credi entusiasmo, credi, do del tu perché siamo colleghe, entusiasmo, cioè ogni giorno avere una gran voglia di dire, di capire che cosa succederà e di capire come raccontare tutto questo, perché poi è narrazione, è responsabilità. a casa, a casa, nelle case, le persone aspettano da te, non certo perché sia tu a raccontare, ma perché se hai il tramite, aspettano da te la notizia, quindi ecco quella è la responsabilità. Qualcuno sostiene che nel giornalismo al femminile ci sia un quid di particolare in più? Secondo te è così? Qui rischio di inimicarmi qualcuno, non lo so, non so se sia così. Io ritengo, forse perché tutto quello che viene fatto al femminile attira giustamente anche di più l'attenzione perché per un tempo molto lungo, troppo lungo, le donne non hanno potuto fare tutto questo. Certo, vedere, e qui tutti sull'attenti, vedere Oriana Fallaci con l'elmetto, la guerra che corre in Vietnam per evitare le pallottole fa più impressione che non vedere l'equivalente di Oriana al maschile. Credo in una cosa però, che le donne abbiano, non so, ci mettano un appunto in più di materno, no? Quando devono raccontare una storia, quando devono dire qualcosa, scatta quel meccanismo, credo di tenerezza in più che le donne sanno avere, per loro natura, non perché agli uomini sia negata, ma per loro natura è così. L'orchidea d'argento quest'anno va anche nelle mani di Angelo Raffaele Amelio, giornalista, autore RAI, volto noto, volto noto soprattutto nel Vallo di Diano, la sua terra di origine. Angelo, qual è il consiglio che oggi darai e senti di dare ai tanti giovani giornalisti di questo territorio che frequentano i corsi di formazione dell'ordine e che lavorano in un territorio e su un campo particolare, quello delle aree interne? Beh, in genere non sono abituato a dare consigli perché a volte, sai, si corre il rischio di essere un po' autocelebrativi e presuntuosi. Però se mi posso permettere, umilmente, sulla base anche di un'esperienza acquisita sul campo dopo tanti anni, mi piacerebbe suggerire ai giovani colleghi che vedo qui in sala a Sassano per questo corso di formazione professionale per giornalisti, un consiglio che si sintetizza in una battuta. Tenere sempre presente che noi abbiamo un codice deontologico da rispettare e la cosa più importante da fare in questo mestiere è verificare sempre le fonti. Perché in un momento come questo, in cui le fonti sono tante, sono veramente tante, l'innovazione tecnologica ha allargato il parterre di coloro che parlano, pubblicano, scrivono, leggono, insomma potenziali giornalisti sono dappertutto. Bisogna verificare chi è giornalista e chi no, ma non per una difesa di casta, per garantirsi la credibilità di quanto si va leggendo e dunque si va trasformando, trasportando, ribattendo ad altri. La fonte è la cosa più importante, secondo me bisogna verificarla sempre per poter fare un buon giornalismo. Questo è uno dei pochi suggerimenti che, ripeto, molto umilmente mi permetto di dare ai giovani colleghi che sono qui a Sassano, che frequentano questo corso e che vedo però sono molto attenti, molto motivati. È una professione che piace naturalmente, però è una professione anche molto sacrificata, non è sempre così brillante, bella come può sembrare. Molto spesso lo è e ti dà tante soddisfazioni, ma è una professione che va affrontata con grande serietà professionale, con grande serietà personale. È una professione fatta anche e soprattutto di sacrifici. Poi, se ci saranno questi sacrifici, ci saranno anche le soddisfazioni. Siamo in compagnia del sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino. Siamo giunti all'ottava edizione del premio giornalistico Orchidea d'Argento. È un premio prestigioso che quest'anno va nelle mani di una giornalista eccellente, quale Paola Saluzzi, ma oggi è pieno di giornalisti locali, nazionali, regionali. Quindi, ancora una volta, una grande soddisfazione per il premio giornalistico Orchidea d'Argento, ma anche per la comunità di Sassano. Sì, è una grande gioia, è una grande soddisfazione perché l'ottava edizione del premio giornalistico Orchidea d'Argento ormai ha raggiunto un livello veramente di assoluto valore. Questo grazie soprattutto all'Ordine dei giornalisti della Campania, al suo presidente Ottavio Lucarelli, che ha fatto un grande lavoro per fare in modo che il premio giornalistico potesse diventare veramente un punto di riferimento importante. Oggi è la giornata, il premio rappresenta quel momento di riconoscimento importante a personaggi del mondo del giornalismo che si sono occupati anche del nostro territorio, che si sono distinti però soprattutto per la loro, non solo capacità comunicativa eccellente, ma anche per l'aspetto formativo, cioè per quello che riescono a trasmettere ai nostri giovani, ai tanti giovani giornalisti che coltivano un sogno nel cassetto, quello domani di poter raggiungere gli obiettivi e raggiungere l'obiettivo di diventare un giornalista affermato. Quest'anno con Paolo Saluzzi, con Angelo Amelio e con Antonio Manzo abbiamo tre premiati che rappresentano certamente ancora una volta tre professionisti di grande valore, tre professionisti che hanno e lavorano nel nostro territorio, tre professionisti riconosciuti appunto anche da tanti giovani e amati da tanti giovani e rappresentano un punto di riferimento per tanti giovani. Ecco, io sono veramente contento, d'altra parte anche il coinvolgimento dell'associazione giornalista del Vallo di Diano con il suo presidente Rocco Colombo rappresenta anche il coinvolgimento e il riconoscimento a quei tanti giornalisti e giovani giornalisti del nostro territorio che fanno sacrifici, ma lo fanno per amore, per passione, perché ci credono e noi questo lo dobbiamo sottolineare, lo dobbiamo rimarcare, perché io penso che quando ci sono dei giovani che coltivano un sogno e lo coltivano facendo dei sacrifici, lo coltivano investendo nella propria vita, beh noi abbiamo il diritto e il dovere soprattutto di riconoscere questo ruolo e di considerare stare vicino ai tanti giovani del nostro territorio. Ecco, il premio giornalista di Orchide del Centro vuole essere anche questo, riconoscere i sacrifici dei nostri tanti giovani che lavorano quotidianamente con impegno, passione e sacrificio. Ottavio Lucarelli, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, che oggi organizza l'ennesimo corso di formazione per i giornalisti di questo territorio ha dimostrazione che l'Ordine non è napolicentrico ma è vicino a tutte le province e è sempre presente su tutto il territorio regionale nella persona del presidente Lucarelli. Assolutamente, siamo in Ordine regionale, oggi qui arriviamo all'ottava edizione del premio e siamo nel quinto anno di formazione, di incontri di aggiornamento professionale per i giornalistici, quindi noi abbiamo sempre detto al primo momento che non siamo un ordine napolicentrico sui corsi di formazione e su tutto il resto siamo presenti dalle montagne del Sano e dell'Irpinia fino appunto al Vallo di Diano, al Cilento, in tutte le zone della Campania, con grande piacere soprattutto quando ci sono risposte come quella di oggi. Noi ormai sappiamo, lo sappiamo da anni, la comunità del Vallo di Diano è una certezza per noi, è un punto di riferimento importante per l'Ordine, per la nostra professione, per il lavoro che voi svolgete poi quotidianamente perché poi noi ci vediamo qui due o tre volte l'anno perché dobbiamo girare un po' tutta la Campania, ma quando organizziamo i nostri piani di formazione ecco per noi gli incontri nel Vallo di Diano con la vostra comunità sono un punto di riferimento importante rappresentano un punto di certezza per noi e per la professione ed è anche un momento di scambio importante di opinioni e di esperienze. Tonia Cartolano è l'emblema del giornalismo nel Vallo di Diano, sì è così Tonia, lo so che però è così perché se si parla di Tonia Cartolano nel Vallo di Diano si pensa al giornalista per eccellenza cresciuta qui, formatasi qui e poi arrivata a Sky TG24. Quello che voglio chiederti però oggi perché qui ci sono tanti giornalisti del Vallo di Diano, del Golfo di Policastro, del Cilento, come vedi lo stato di salute del giornalismo in questo territorio? Allora qui vedo tanta buona volontà perché siete in tanti, siete tutti molto giovani, molto volenterosi anche nelle domande che fate, desiderosi di conoscere come funziona altrove, di arricchire il vostro modo che è il modo di fare il giornalismo di un territorio. Qual è lo stato di salute? Allora io non è che segua costantemente i racconti che vengono fatti, le cronache che vengono fatte però ti dico una cosa e penso di non sbagliarmi che essendo un territorio nel quale ci si conosce tutti tante volte il giornalismo locale viene condizionato dai rapporti, non so se sono in grado di spiegarmi in quello che voglio dire ma il giornalismo del territorio è un po' conoscere qualcuno, fargli un favore che è un po' anche quello che avviene a livello diciamo oltre il locale, nel vero locale territoriale è più accentuata questa caratteristica perché conosci praticamente quasi tutti e quasi tutte le persone con cui hai a che fare e inevitabilmente ti senti un po' più condizionato, quindi nei racconti evidentemente questa cosa un po' arriva, traspare, questo è forse il limite che può essere anche tante volte una ricchezza, in generale vedo tanta fibrillazione, tanti giovani che vogliono imparare questo esperimento anche della scuola di giornalismo, dei ragazzi che provano a capire come si può raccontare in maniera diversa, dal proliferare di esperienze attraverso il web, è sicuramente un fatto positivo con i limiti che ha un territorio nel reperire le risorse perché per fare un buon giornalismo vi do una notizia, servono i soldini, i piccioli direbbero altrove perché bisogna avere il tempo, i soldi per spendere tempo a investigare, a cercare, ad andare in giro, non ci vogliono per forza tantissimi soldi ma ci vogliono un po' di soldini, quindi il giornalismo fatto bene non può essere fatto a gratis quindi se nel territorio si lavora per pochi euro diventa un problema perché uno se fa il giornalismo per pochi euro deve chiaramente sbarcare il lunario arrotondando, quindi è chiaro che questo tante volte può essere un limite